Questo workshop promosso da Fondazione Mondo Digitale e Fondazione Golinelli sarà per noi un'occasione molto interessante di riflessione sull'applicazione delle più avanzate tecnologie, in questo caso la realtà virtuale e la realtà aumentata, al campo della formazione in maniera specifica nel settore della salute, delle scienze della vita e del benessere e della sanità. Per noi come Fondazione Golinelli è una riflessione fondamentale perché già da alcuni anni, tra vai e o mai, abbiamo avviato lo sviluppo di una nostra piattaforma proprietaria dedicata all'alta formazione nel campo delle scienze con l'utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata. Quindi è una piattaforma che noi stiamo sviluppando ed incrementando e ampliando sempre di più perché crediamo che questo sia un terreno futuro molto importante perché le nuove tecnologie possono consentire di amplificare la portata in termini di efficacia e di efficienza dei percorsi formativi potenziandola, potenziando l'apprendimento e questo soprattutto anche nelle dinamiche che coinvolgono poi dopo il collegamento tra una parte teorica e una parte pratica esperienziale. Il campo della sanità e della salute è un esempio lampante di questo e già ci sono numerosi esempi che si stanno sviluppando nel nostro paese e abbiamo invitato tutte queste persone a fare un momento di riflessione comune e anche cercare magari la possibilità poi dopo di collaborare e di sviluppare ulteriormente le nostre positorialità per il futuro.